L'operazione coordinata dalla DDA di Caltanissetta colpisce di una mente una storica famiglia della stitta gelese che esercitava una forte pressione estorsiva in danno di imprenditori e commercianti nel territorio della provincia e che poteva contare su importanti ramificazioni soprattutto nell'Inderland milanese dove gestiva l'approvvigionamento allo smercio dei stupefacenti grazie agli stretti contatti staurati con esponenti della criminalità calabrese e campana.